ok leonardo adesso siamo pari benvenuti nella prima recensione ufficiale di organic studio don lucca il film evento di netflix che ha fatto parlare molto di sé in queste ultime settimane in questo ultimo mese in questo ultimo anno a molti è piaciuto a molti è andato un po sul cazzo per così dire la maggior parte di voi ha comunque gradito questo capolavoro di netflix con i nostri jennifer lawrence timothy mi fratello leonardo ovviamente jonah hill molti ne hanno parlato molti l'hanno gradito chi l'ha odiato chi l'ha detestato chi ha detto che è una stronzata assurda io penso che questo film non sia totalmente una cagata non dice niente di nuovo gli opinioni di questo film rendono comunque bene quello che è parlare di un argomento velato quale il covid sotto forma di un problema che è riuscito a far pensare le persone la drama è semplicemente questi due scienziati che scoprono che un asteroide sta per colpire la terra in meno di sei mesi e devono raccontarlo a tutto il mondo il mondo lo interpreta a modo suo chi ci crede chi non ci crede chi ci crea movimenti sopra chi lo rende un contenuto per i propri tornaconti don look up è sicuramente uno di quei film che tende a farti apprezzare tutto quello che stai vedendo perché ricoperto dalla commedia tipica americana ma la commedia ci ha rotto il cazzo film come armageddon decor deep impact hanno saputo rendere in maniera molto più pericolosa notizia in quanto film action sei tu che combatti la minaccia ma se provi a rendere la minaccia di tutti e non puoi combatterla direttamente cosa fai ti rende impotente se vogliamo davanti a questo enorme problema che non puoi risolvere e quindi che succede c'è la critica sociale ovviamente ad esempio il CEO che vediamo all'interno del film è palesemente una caricatura di Elon Musk e questo ci porta anche a rapportare quello che vediamo nel film come avevo detto prima ai nostri giorni ad esempio il covid che ci ha sicuramente fatto pensare a quello che è il messaggio del film ma dove voglio arrivare abbiamo la tendenza dato distruggerci siamo delle persone che o credono alla totale menzogna oppure la menzogna è talmente grossa che fa il giro e diventa verità hai un'esigenza mentale di credere a quello che vuoi a quello di cui hai bisogno i don't look up e i look up i vax e i no vax ho guardato in alto vai video in su vai 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 ragnatela va ma il film in sé oltre al messaggio scorre bene il montaggio è un qualcosa almeno di più innovativo se vogliamo che ho visto nella comicità tipica americana alla adam sandler è diverso a me guarda così è diverso il fatto di dover essere così forzato anche nella realtà porta anche a rendere dei momenti totalmente imbarazzanti quali timothy chalamet chamalè o come cazzo te chiami te che dici ah sono puma tiger 23 su twitch no zio no non serve per quanto riguarda i fan fact di questo film il regista adam mcky giusto ha voluto lasciare una scena in particolare del film in cui si vede la troupe che stava girando il film con le mascherine di conseguenza ha detto no è così autoreferenziale no che ci siamo noi durante il covid che raccontiamo questa storia incredibile oh mio dio guardato sopra il video ma più in alto cosa non si fa per le views nella parte spoiler che arriverà adesso ora finalmente dopo due ore e venti questo cazzo di meteorite colpisce sta cazzo da terra e che succede gli ultimi istanti di vita di tutto quanto il pianeta dei nostri protagonisti molto toccante devo dire la verità davvero mi sono commosso è stato devastantemente perfetto c'è un problema però il finale dopo i titoli di coda dove il CEO e la presidente emele il strip che se ne vanno sulla loro navicella per raggiungere il nuovo pianeta dove abitare rendono il tutto completamente ridicolo rovinando la scena toccante che abbiamo visto in precedenza in poco tempo dopo la visione di questo film sono riuscito a rendermi conto che una cosa deve essere raccontata con il giusto tempismo non puoi raccontarla dopo vent'anni che è stato sdoganato questo film non ha una tematica originale perché l'abbiamo già visto nei precedenti film che vi ho elencato mi chiedo perché hanno dovuto rifarlo in una chiave comica che non era necessaria per quanto quei film hanno saputo rendere bene il messaggio che c'era dietro qual è la morale del film stai attento a quello che dici frate o potresti fa esplodere in pianeta questo era tutto quello che avevo da dire su questo dannato film spero vi sia piaciuto il bottone di iscrizione qua sopra fatemi sapere se volete altre recensioni come questa se effettivamente sono arrivato da qualche parte o qualche punto non lo so lo vedrò in post ciao